Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani. Oggi faremo una lettura angelica valida per una settimana dal momento in cui la stai guardando. Questa lettura cade esattamente nella settimana in cui è presente il 29 di settembre, ossia il giorno dell'Arcangelo Michele, quindi un'energia molto potente, sentiremo la presenza dell'Arcangelo Michele per chi lavora con l'Arcangelo Michele, per chi sente la sua energia. Sicuramente questa è una settimana molto potente in cui la sua presenza è ancora più marcata, ancora più presente. Ok? Iniziamo la nostra lettura angelica, utilizzeremo tre mazzi di carte, suddivideremo la lettura in tre gruppi, gruppo A, gruppo B e gruppo C. Ok? Voi potrete scegliere un solo gruppo di appartenenza o tutti e tre o solamente due. Ok? Seguite il vostro cuore, chiedete all'Arcangelo Michele cos'è più giusto per voi, per il vostro massimo bene. Iniziamo la preghiera di protezione, invoco la divina presenza di Dio, Deo, Onnipotente, Padre e Madre, i miei angeli custodi, il mio Sé superiore, gli angeli custodi, il Sé superiore di tutte le anime che con tanto amore mi seguono. Invoco a te, Arcangelo Michele, invoco il Maestro Gesù, Maria Regina Celeste, coscienza micaelica, e con l'amore vero, puro e sincero vi chiedo di purificare la nostra energia, le nostre intenzioni, parole ed azioni, di elevare le nostre energie, vibrazioni e frequenze, di radicare la nostra energia fino al centro della Madre Terra, di sintonizzarci nella frequenza dell'amore più puro ed incondizionato e di creare uno scudo di protezione completo, impenetrabile all'oscurità, dove possa entrare solo la luce, l'amore più puro e vero di Dio, Dea, Onnipotente, Padre e Madre. Chiedo massima protezione, guida ed assistenza, per me, per tutte le persone coinvolte. Grazie caro Dio, grazie Arcangelo Michele, grazie al Maestro Gesù, grazie coscienza micaelica, è fatto, è fatto, è fatto, e così e così sia, ora per sempre e per l'eternità. Ok, iniziamo col gruppo A, vediamo cosa gli angeli hanno da dirci, lascia che sia. Ecco, gruppo B, è saltata fuori la carta, in seguito i sogni, in seguito i sogni, interessante. Ecco, gruppo C, creatività. Vediamo un po', secondo marzo. Gruppo A, fai attenzione ai tuoi sogni. Gruppo B, ammetti la verità con te stesso e agisci di conseguenza. Gruppo C, caduta la carta, chiede aiuto all'Arcangelo Michele per questa situazione. Vediamo, terzo mazzo, sono cadute troppe carte, quindi non va bene. Eccola qui, questa è saltata proprio fuori, apriti ai tuoi doni spirituali. È molto interessante. Andiamo, gruppo B, eccola qui, no, non è voluta saltare fuori. Eccola qua. Gruppo B, tutto è sincronico, è perfetto, nel momento giusto e nel posto giusto. Bene. Perché qua sono uscite due carte per il gruppo C. Credi nei tuoi angeli e abbraccia il tuo scopo divino. Vediamo un po' la nostra lettura angelica. Vediamo cosa ci vuole dire l'Arcangelo Michele. Allora, lascia che sia, lascia che tutto accada seguendo le tempistiche divine, non forzare gli eventi. Lascia che questo tuo progetto a cui stai, a cui tieni tanto, stai aspettando un particolare risultato, lascia che si manifesti come, come deve essere. Cioè, questo significa anche di rimanere aperta a ricevere il meglio, ad avere aspettative positive e a credere che può arrivare solo il tuo massimo bene. Diciamo che alcuni segni sono anche arrivati nei tuoi sogni. Presta attenzione a quelli che sono i tuoi sogni, perché in questo caso i tuoi sogni ti stanno portando dei messaggi chiari, molto precisi. Quindi, ascolta il tuo cuore, ascolta quello che senti dentro, va bene? Anche perché hai dei doni spirituali molto forti, molto potenti. Hai il dono della chiaroveggenza, il dono della chiarossenzienza, in alcuni casi anche la chiarudienza. Sono delle capacità innate dentro di te, quindi abbi fede e fiducia in queste tue capacità, perché verrai guidato, verrai guidata nella direzione giusta. E lascia che tutto avvenga nella tempistica divina giusta. Ok, anima infinita? Bene, passiamo al gruppo B. Insegui i tuoi sogni, segui i tuoi sogni, non mollare. Punta in alto, credi in te stesso, in te stessa, tu ce la puoi fare. Tu puoi realizzare cose straordinarie e meravigliose. Quindi assolutamente punta in alto, non mollare mai. I tuoi sogni sono loro che hanno chiamato te, non sei solo tu a chiamare loro. È un interscambio di luce, di amore tra te e quello che desideri, perché quello che desideri è la chiamata della tua anima, è in allineamento alla tua anima. Quindi per piacere, ammetti a te stessa la verità, la verità che è dentro di te. Abbi fede e fiducia, perché quello che è manifestato fino ad oggi era il progetto della tua anima. Sei solo all'inizio di un grande e di un lungo cammino, quindi assolutamente tutto si sta allineando. Sei nel momento giusto e nel posto giusto. È venuto il momento proprio di agire nella direzione dei tuoi sogni. E gli angeli sono qui, l'Arcangelo Michele è qui per guidarti passo dopo passo nella direzione giusta. Guardate, qua c'è la figura di un portone, di un portale che si apre. Quindi grandi sogni, grandi manifestazioni stanno arrivando nella tua bellissima vita. Ok, parliamo del gruppo C. Creatività, sei in un momento creativo della tua vita, hai delle idee, mettile in pratica, agisci di conseguenza, ascolta il tuo cuore. Ascolta, fai quello che senti nell'anima, nel cuore, perché sei proprio guidato ad agire in una certa direzione. Hai bisogno però di sostegno spirituale, quindi l'Arcangelo Michele ti sta invitando e ti sta dicendo chiedi il mio aiuto. Io sono qui per aiutarti, io sono qui per proteggerti, io sono qui per guidarti nella direzione giusta del tuo scopo nella vita. Abbraccia quello che è il tuo scopo nella vita, non mollare, non mollare, anche se è un momento difficile, sei veramente guidato nella direzione dei tuoi sogni e del cuore. Ok? E fidati negli angeli, perché gli angeli sono qui per proteggerti e per guidarti. Quindi chiedi più aiuto spirituale, perché così gli angeli possono intervenire. Gli angeli e l'Arcangelo Michele non possono intervenire se tu non gli dai il permesso. Quindi tu devi chiedere il loro aiuto ogni singolo giorno, rinnovare, diciamo, le tue preghiere ogni giorno, perché loro hanno massimo rispetto del tuo libero arbitro. Se tu lo farai, vedrai che tutto si sta manifestando nel modo giusto, assolutamente. Fidati degli angeli, perché gli angeli hanno dei grandi regali da portare nella tua bellissima vita. Bene, anima infinita, prima di finire la nostra lettura angelica, chiediamo all'Arcangelo Michele che messaggio ha da donarci anche per questo giorno speciale del 29 settembre, per questa settimana potente. Chiedo a te Michele qual è il messaggio per il maggior numero di persone possibili. La resa cresce in relazione all'impegno, ok? Va bene. Più energia dedichi, più impegno metti nei tuoi progetti e più risultati saranno soddisfacenti. E' illusorio a pretendere grandi cose con il minimo dello sforzo. Raramente il futuro premia i furbi. Quindi mettiamo intenzioni pure di amore, agiamo di conseguenza nella direzione dei nostri sogni e grandi opportunità si apriranno davanti a noi. Va bene? Quindi veramente in tutti e tre i casi si parla di doni spirituali, di scopo nella vita, o che di seguire i propri sogni e di abbracciare il proprio scopo nella vita. Quindi vai avanti, non fermarti, perché veramente sei un'anima destinata a grandi cose. Bene, anima infinita, io ti saluto, ti abbraccio. Buona festa dell'Arcangelo Michele, buona settimana a tutti e ci sentiamo presto. Un bacione, ciao!